Secondo me, all'inizio di tutto, c'è sempre una donna. Secondo me la donna è stato il secondo errore di Dio. Il primo. Secondo me una donna è donna da subito. Un uomo è uomo, a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Secondo me una donna è coinvolta sessualmente in tutte le vicende della vita, a volte persino nell'amore. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglierisce. Secondo me in un salotto, quando non c'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me un uomo che si vanta di iniziare le donne ai piaceri dell'amore è come il turista che mostra alla guida le bellezze della città. Secondo me, per una donna che non ha fortuna in amore, non si può usare il termine sfigata. Secondo me un uomo che dice di una donna, quella lì da da via, meriterebbe che a lui le donne non gliela dessero proprio mai. Secondo me una donna che fa l'amore per interesse è una puttana. Se invece lo fa perché le piace, non c'è la parola. Secondo me una donna che dice ad un uomo con cui sta facendo l'amore, come con te e con nessuno, andrebbe comunque arrestata per falsa testimonianza. Secondo me le donne, quando ci scegliono, non amano proprio noi. Forse una proiezione, un'immagine, un sogno. Ma quando ci lasciano, siamo proprio noi quelli che non amano più. Secondo me il primo maschilista è stato Dio, che si è fatto uomo. Però io se fosse stato Dio, non so se la donna l'avrei firmata. Secondo me una donna che si offre sessualmente ad un uomo ed è respinta, rimane sconcertata. Non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale. Ma in piedi di questa versione non legge. E allora pensa che già, lui si difende. Ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente. Oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, l'ha detto un mio amico ginecologo. Secondo me una donna che oggi fa la madre di famiglia e rinuncia a lavorare, sbaglia. Se invece lavora e rinuncia a fare la madre di famiglia, sbaglia. Se cerca contemporaneamente di lavorare e di fare la madre di famiglia, sbaglia. Sbaglia comunque. L'uomo invece non sbaglia mai. Sono secoli che sa quello che deve fare. Forse per questo che è così intronato. O forse per qualche altra ragione.